Una nuova, però con lei Monza E' arbitrae, terzo arbitro, Giulio Valici di Montevideo E' il vice allenatore, Giuseppe Androvi Il libero, 3-7, Fabio E' una segretta, il servizio Lubecki Io devo vincere, che non si vittà La maip del capitano Vete giù, con Mario Valtorella Il pallo a rete E' stato il vero volo in Montevideo Il primo set venticino E' anche il primo servizio del secondo set Don Vanzano, Don Vanzano Dai, le 4-1 di Liana Contalo Vanzano E' il numero vincente sul primo tempo Simo Riazani Il pallone termina out Si dove anche il secondo parziale 25-19 dopo il 25-20 del primo set Pianzano Ho fatto il quarto Gli aggolano Il pallone termina Pianzano Baldini E' il pallone termina Gli aggra E' il pallone termina La Ruzia, vincente, non riesce a... La Ruzia... L'attaccolo è 4 per l'auto, c'è la richiesta di Borina. La Ruzia... La Ruzia... La Ruzia... Fondo Lume, Osmai Iguantorena. E' vincente il servizio di Filippo Danza che riporta il verbo... Il devono vincente Lume chiude il quarto parziale 25-23. Tre sette euro Lume che si aggiudica i tre punti in pario. Al centro del terreno di gioco, la protagonista, Credevo e Static People.